Benvenuto a questa giornata di agonismo, dedicata all'agonismo. Come potete vedere abbiamo messo un gigantino tranquillo per le nostre possibilità. Ok, adesso ho visto già che la seconda porta gira un pochino, quindi la metteremo un po' più a norma nelle nostre condizioni. La cadenza per quanto riguarda poi tutto quello che è intracciato fino in fondo, perché se iniziamo ad arrivare completamente dritti, se guardate lì da soli, se arriviamo già in una direzione che vuol dire puntare il palo, quando si dice puntare il palo vuol dire in questo senso qua, puntare la base del palo, non va bene perché poi ti porti dietro tutto quello che ha ritardo fino in fondo, non ti diverti, prendi tanti di quei secondi e poi ti chiedi perché magari anche, no? Il fatto di partire e fare una bella ricognizione, capire dove passare, crearsi quella famosa linea immaginaria che abbiamo anche detto ieri sera, nel video che abbiamo spiegato, bisogna immaginare che ognuno ha, in base alle proprie caratteristiche, in base alla propria tecnica e tutto quanto, che in linea di massima comunque deve essere più o meno pare per tutti. Dovete fare una pancia. Perché? Perché se abbiamo, comunque sia, come vedete, io lo chiamo lo specchio, la porta, lo chiamo come se fosse uno specchio, se chiude la porta, è troppo, troppo interno, come facciamo a girare? È un ostacolo, non è che ci viene addosso, quindi quando gli andiamo addosso, quindi non riusciamo a sfruttare l'attrezzo nella prima parte di curva, che è quella, come abbiamo detto ieri sera, che è quella che ci fa accelerare. Quindi, di fare la ricollezione, di capire le porte determinanti, le porte trabocchetto, le porte difficili, durante un tracciato, c'è chi ce lo ricorda tutto, c'è chi porta per porta, c'è chi si ricorda solo i passaggi difficili, ognuno ha proprio modo, però il capire quello che può essere immaginaria è importantissimo. Arrivare in questa direzione, in base a questa direzione qua, più o meno ci si fa una linea, dove hanno i scarponi nordica, dove sono in nordica, si passa più avanti bene, si cerca di sentire bene la prima parte di curva andando sulla faviglia, senza andare contro il palo, aggrapparsi al palo, che non serve, e poi si, da qua in avanti. Dicevo, se chiudi lo specchio della porta, che stai tanto all'interno come se fossi qua, e cerchi di girare in un metro, non ce la farai mai, perché arrivi in questo modo, e se cerchi di girare nel modo corretto, giri qua, e non fai neanche la porta. Allora cosa ti tocca fare? Aspettare, farlo sempre nel gergo abbastanza semplice, così ci capiamo, perché secondo me l'importante è farlo. ormai, come è qui, da lì, la mia barba, ma invece, finito stretto così, ma questo l'ho già detto, questo così, ovviamente avrai anche una posizione, una posizione non corretta, perché? Perché comunque non puoi girare, sei troppo stretto, se comunque arrivi in questa posizione qua, hai lo specchio della porta completamente aperto, perché tra l'altro è il più interno, e hai la possibilità, la possibilità, di fare il gesto tecnico corretto, perché sei tranquillo, non hai da litigare per forzare, e di conseguenza, attenzione, basta, di conseguenza, avrai il tuo gesto tecnico, e anche questa linea immaginaria, che si trova sempre, all'interno di un trasciato, perché è quella che la pizzi fa da fuori, non è toccare il palo, non è andare dritto, non è dire vado più dritto possibile, ci metterò sicuramente meno tempi, no? No, ha maggior ragione, quando se liate questi attrezzi qua, carvi, race car, fila gara, tutto quanto, quindi con una sciancratura, il fatto di riuscire a sfruttarla il più possibile, lo dimostra un ligati, che durante una discena, di 60 porte, di 60 curve, toccherà 10 pali, però vince le gare. Questo è proprio l'esempio lampante, no? Cosa vuol dire sfruttare un attrezzo, qui lo sfrutta benissimo, quello che si crea lui, appunto questo sistema, che si è creato, questo sistema di base, che è lo sfruttare il materiale, dentro un contesto obbligatorio, come solo come è, la zona gigante, le varie discipline, andiamo! Il mio secondo obiettivo sarà quello di non toccare un palo, ok? Devo fare tutto in conduzione, la partenza, all'arrivo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Giro, abbiamo già, questo è il terzo giro, Bisogna migliorare. Cosa vuol dire? Eh sì perché ti porta anche l'attrezzo che hai a richiedere una performance un po' più sportiva. Poi ce l'hai, si vede che è un livello molto buono, molto alto. Quindi cercare di ancor più la consapevolezza, l'ascoltarsi quando si scende, senza cercare, non c'è cronometro, non c'è niente di niente, cerchiamo veramente di, il nostro obiettivo è migliorare, andare via da qua e dire oh, più riesco a fare, con la stessa velocità del carvatone, con degli angoli, degli altri fiori che veramente non sono mai riusciti a raggiungere. Questo è il tuo obiettivo, perché c'è poco da forense sinceramente, c'è parte alta buona, il movimento comunque c'è, la cadenza c'è, si vede l'apertura e la chiusura degli angoli, va bene, va tutto bene. Quindi la cosa che ti chiedo, visto che ce l'hai dentro, non tagliare lì dentro dall'interno sul palo. In realtà non è quello tagliare sul palo, è che poi io sbagliando la prima mi porta fuori e quindi non riesco più. La miretta, fai un metro in più, intanto non c'è cronometro, fai un metro in più nella seconda curva, la prima è quella della partenza, la seconda porta, fai un metro in più. Apri già magari la prima porta, invece di partire andare lì dentro, apri già un pochino, un mezzo metro, poi invece di andare nella porta, fai quella, poi la prendi tutta da dietro. Prendi tutta dietro, vedrai che dopo ti dà un'altra cadenza, hai quel mezzo metro in più in apertura, lo specchio della porta, vedrai che arrivi giù e fai meno fatica. Al giorno non l'ha mai fatto pali, Andrea, ma guarda che bravo. Vedi che pianino si vede, ogni tanto ti salta dentro la curvettina che ti prende bene, ah che bello. Bellissimo, quando provo a fai via, stai calmo, lascia perdere le porte, tanto, viste, è tracciato regolato. Bello, bello, bello. Non c'è problema. Divertente da morire. Non c'è problema, quindi, ascoltati, quando senti, ok, vedete, ma lascia che la rifanella facessi un pochino più, questo gesto qua, non questo, non l'intraversare un pochino, sai, e sporcare tutta la curva. Un pochino di più, questo, questo, senza andare a indirizzo. Ora, quel problema? Il problema, cioè che c'è anche un motto più larga, ecco. Sì, eh sì. Gli archi inferiori, eh, gli archi inferiori, che entrano, un pochino in curva, ok, usa un pochino anche l'interno, non troppo, non troppo. Ah, ok. Non troppo, perché già lo materiale gira, dico, al momento. Ok? e che ha messo con la velocità inutitevo. Certo, vado. Quindi è all'esterno che c'è la monta? Cerca di sentirla, la tibia. Dobbiamo finire la giornata, che insomma c'è il male della tibia. Ok. Devi metterti la cremina, quella antidolorifica. No, veramente. Focalizzati su questa posizione qua, perché se tu riesci a sentire, a vedere che gli sci fanno queste impulsioni qua, vedrai che farai meno fatica, e poi ti godrai anche di più la discesa. Sì, quando viene bene ti raccorgi. Comunque quando viene bene ti raccorgi, proprio prendi lo schiccio. Ne fate due tre quadri, se vedi? Vai, 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 vai. Vai che mi piace, vai che mi piace. Piano, vedi? Io vado adesso tranquillissimo. Sì, sì. C'è ragione, Massimo. C'è ragione, c'è ragione. Oh, ho fatto fatica? Ma chi è? Fino alla quarta porta, ma chi è? Prima è partito a cannone. Tutto dritto, bim, bim, bim. Tutto a strappio. Adesso è ripartito. Ma chi è? Oh, senti una cosa. Calma, vedi? Cioè per riuscire ad andare forte, bisogna, no, bisogna costruire. Per lo sbaglio generale. Agonismo. Master. Master. Pali, protezione, sci da gara, duri. Casco da 400 euro, eh? Va bene. Però bisogna imparare ad ascoltarsi come si scende.